Clima nuovamente infuocato tra gli industriali salernitani già alle prese da mesi con le elezioni del nuovo presidente dopo l'alzeramento dei vertici e il commissariamento deciso di Roma. A provocare il nuovo strappo è stata la delibera di indirizzo organizzativo del Collegio dei Provi Vini di Confindustria Nazionale, che ha ritenuto irregolare la seduto della Giunta di Confindustria del novembre del 2010, nel corso della quale furono indicati i rappresentanti degli industriali nel Consiglio della Camera di Commercio di Salerno, ritenendo responsabili la loro presidente Agostino Gallozzi e il suo collega del gruppo piccolo industria Antonio Lardi, disponendo per loro l'impossibilità di accedere per i prossimi cinque anni a cariche confederali. Un'iniziativa, ricordiamo, nata da un ricorso dell'ex presidente dell'ente camerale Augusto Stianese. La decisione romana ha provocato un vero e proprio terremoto con il gruppo Gallozzi tra i più importanti sul territorio salernitano, tra i principali del settore portuale navale, che ha deciso di abbandonare del tutto Confindustria con le proprie aziende. Ad annunciarlo lo stesso Agostino Gallozzi, che in una nota ha anche ribadito di aver dato mandato ai legali di tutelare la propria immagine e i propri diritti in sede civile e penale. Una decisione che sarebbe stata adottata quella di Gallozzi dopo un'attente ed approfondita valutazione, senza però rinnegare il percorso associativo che l'ha visto per quattro anni alla presidenza. Sempre secondo l'imprenditore, la realtà sarebbe peggiore di ogni onirica fantasia, da qui la volontà di lasciare volentieri al cosiddetto trasturlo Confindustriale ogni ricostruzione del suo operato in qualità di presidente di Confindustria Salerno. Alla fine anche un richiamo alla scelta recente della Fiat di abbandonare Confindustria, giudicata positivamente da Gallozzi. Bene insomma avrebbe fatto Sergio Marchionne a decidere che è meglio, molto meglio, tutelare gli interessi della propria azienda da soli. Questo perché, sempre secondo il presidente del gruppo Gallozzi, questa Confindustria assomiglierebbe più ad un comitato politico che ha un soggetto di rappresentanza degli imprenditori, quelli veri. Parole dure quindi confermate anche da Antonio Ilardi, che inoltre ha specificato di ritenere ancora regolari le decisioni assunte a novembre in virtù dello statuto di Confindustria Salerno che prevede la votazione palese in caso di unanimità per le nomine negli enti. Procedura invece contestata da Roma perché difforme dei regolamenti nazionali, nonostante una sentenza della Corte di Cassazione. Ma da un po' di mesi l'avevamo scritto, l'avevamo detto anche in atti ufficiali, non condividevamo più una serie di impostazioni di Confindustria. Confindustria è diventata più un regime autoritario che ha una sua polizia, tra virgolette, un suo sistema di magistratura interno che purtroppo non è qualificato come quello esterno. Non c'è più la possibilità di esprimere delle opinioni. Le decisioni di organi locali legittimamente eletti vengono mortificate da un presunto organo nazionale che nessuna competenza ha sui livelli locali. Abbiamo preso atto di questo con coerenza, abbiamo deciso di ritirare le nostre aziende dall'associazione territoriale Confindustria Salerno.